Nel 2011, in occasione del 120esimo anniversario dell'Associazione Canottieri Lario, sono state organizzate numerose iniziative culturali. Le celebrazioni si erano aperte già nel novembre del 2010 con un concerto della Filarmonica di Monte Olimpino al Teatro Sociale di Como e una cena sociale nella Sala Bianca del Casino, proprio dove la Lario venne fondata il 4 gennaio del 1891. Oltre 2.000 persone hanno visitato la mostra L'Alario in arte, 120 anni e 120 quadri, allestita dalla Canottieri nell'ex chiesa di San Francesco, spazio culturale Antonio Ratti. Oltre alle barche e ai cimeli storici dell'Alario, sono state esposte le opere di artisti italiani emergenti. Per l'inverno è stata prevista l'uscita del libro celebrativo dei 120 anni, curato da un pool di giornalisti e storici coordinati dal consigliere dell'Alario Paolo Annuni. Un'edizione ricchissima di notizie e di aneddoti della storia della società che rappresenta, oggi come allora, un patrimonio di Como e del suo splendido lago.